bentornati allora in genere questi video cominciano dicendo qualcosa di tipo me l'avete chiesto in tanti in realtà questo non me l'ha chiesto assolutamente nessuno però ho voluto fare questo video perché credo che sia giusto che voi sappiate quanto costa mantenere un canale youtube e quanto lavoro a livello anche banalmente di tempo al netto delle competenze che come dire sono comprese del pacchetto quanto lavoro e quanto tempo ci voglia per realizzare anche un singolo video una premessa molto importante non sono affiliato con nessuno dei brand di cui vi parlerò e non prendono loro neanche un centesimo ve ne parlo solo perché a me sono stati utili allora aprire un canale su youtube è facile veloce non costa nulla si apre in pochi passaggi semplicemente iscrivendosi a youtube questa cosa praticamente non ha alcun costo ed è una delle poche nella catena produttiva di questi video dopodiché ovviamente vi serve un device per registrarvi per riprendervi la scelta più economica e più veloce quella di usare il vostro smartphone ormai sono comunque di ottimi che fanno delle riprese anche ad alta risoluzione in 4k per cui questa cosa volendo si può risolvere in maniera abbastanza veloce quando però comincerete ad appassionarvi e vorrete che la qualità di quello che fate sia sempre più alta nello smartphone non vi poterà più e allora dovrete fornirvi di una videocamera quanto costa la videocamera è come chiedere quanto costa l'automobile ce n'è di tutti i prezzi il problema poi non è tanto e solo la videocamera ma poi comincerete a cambiare le lenti comincerete a cambiare gli obiettivi comincerete a mettere dei filtri e tutto ciò ovviamente ha un costo sempre superiore la videocamera diciamo che costa da 300 euro fino all'infinito praticamente dopo la videocamera avete bisogno delle luci sì perché la luce naturale non è quasi mai affidabile salvo rarissimi casi non è adatta a fare dei video che abbiano un minimo di qualità intrinseca comincerete quindi praticamente con un ring di quelli che si trovano al negozio del cinese sotto casa che costano una ventina di euro poi col passare del tempo passerete ai led come quelli che illuminano qui di fianco che costano intorno ai 70 80 100 euro in base al modello in base alle funzioni ma prima o poi arriverete a prendere dei softbox i softbox sono queste luci che mi illuminano in questo momento e che sono due luci alte oltre due metri e larghe e vi faccio così non so se ci sta nel nello schermo ecco larghe più di così diciamo così non si vede il costo dei softbox è dai 100 euro in su dopodiché per registrare la vostra voce non potrete affidarvi al microfono della videocamera o dello smartphone perché sono sempre microfoni di scarsa qualità tecnica e la voce in un video è estremamente importante ecco quindi che vi servirà un microfono come questo che ho io davanti il cui costo varia ovviamente anche qui diciamo dai 70 100 euro fino a svariate migliaia una volta che avete il microfono vi servirà un software per lavorare la voce per renderla più gradevole in particolare poi se il vostro video lo volete trasformare in un podcast la qualità dell'audio è imprescindibile ci sono dei software gratuiti come audacity che servono a registrare la voce e volendo anche a editarla però il problema è che a meno che non abbiate veramente molta competenza per sapere quali frequenze andare a modificare e come lavorare il file audio della vostra voce dovrete o chiedere servizi di un professionista a pagamento che vi faccia l'editing audio oppure prendere un plugin come può essere Voxcessor che costa 120 dollari indicativamente e che ha una serie di preset che vi consentono di rendere la vostra voce migliore possibile una volta che avrete registrato l'audio e registrato il video dovrete fare la post produzione ossia mettere insieme il video e l'audio fare il montaggio e aggiungere se servono inserti fotografie e qualunque altro contributo questa cosa si può fare anche gratuitamente con alcuni software però per un risultato professionale ci vorranno di software ovviamente a pagamento che mediamente oggi hanno un abbonamento che intorno ai 20 30 euro al mese se invece avete un software già integrato nel vostro computer tanto di guadagnato e a proposito software vi servirà un software per fare le live e per catturare la vostra immagine e quella del video per esempio a cui state facendo una reaction anche qui sono diversi gratuiti ma se volete fare un uso minimamente non vuol dire professionale ma serio vi servirà un piano a pagamento io personalmente uso streamyard che costa intorno ai 20 dollari al mese ma vediamo quanto tempo ci vuole a registrare un video allora innanzitutto a meno che non abbiate un posto fisso dove tutto il materiale le luci la camera e la postazione è già tutto fisso appunto e non viene mai spostato dovrete montare e smontare il setup ogni volta nel mio caso ci vuole circa un'ora per montare e rismontare tutto l'ambaradan di luci camera microfono eccetera eccetera dopodiché ci vorrà il tempo necessario a registrare il video qui è impossibile dire quanto tempo ci voglia perché dipende da un'infinità di fattori da quanti take farete da quante camera avete a disposizione però diciamo che mediamente il tempo per registrare un video va dal doppio della durata del video quindi un video di un quarto d'ora diciamo si può registrare in mezz'ora fino a diverse ore dipende appunto dalla complessità del video stesso una volta che avete il video e che avete l'audio e che avete elaborato l'audio dovrete appunto fare la post produzione col montaggio quanto tempo ci vuole al montaggio mediamente un paio d'ore per video anche qui potete e non è una cattiva idea farlo fare a un professionista il montaggio di un video medio fatto fare un professionista può costare intorno ai 100 200 euro c'è poi la questione più importante perché ok abbiamo parlato di tutto il setup di tutto ciò che serve ma abbiamo trascurato la cosa più importante cioè cosa dire nel video il contenuto quindi di ciò che vedrete nel video innanzitutto ha tutta una fase di ricerca cioè bisogna fare delle ricerche per capire quali argomenti possono interessare al pubblico il canale quali argomenti magari sono particolarmente di moda diciamo così o particolarmente sensibili in questo momento questa cosa naturalmente richiede tempo così come richiede tempo ovviamente acquisire tutte le immagini e tutti i video che userete nei vostri video bisogna prenderli salvarli vedere se ci sono delle licenze alcuni video alcune immagini si possono prendere usare i propri video ma bisogna pagare la licenza licenza che varia dai 5 10 15 euro a foto se invece trovate il materiale libero tanto di guadagnato ovviamente quindi se l'argomento di cui dovete parlare nel video conoscete già bene è già una buona cosa insomma vi fate una scaletta e seguite la scaletta ovviamente è diverso se l'argomento di cui dovete parlare non dico che non lo conosciate perché evidentemente non mi metterei a fare un video su come funziona una centrale nucleare evidentemente però vi dovete magari approfondire dovete fare delle ulteriori ricerche questa cosa può comportare anche variati giorni di lavoro per un singolo video poi in certi casi quando si sta trattando un argomento che si conosce ma magari non in maniera molto molto approfondita è sempre utile far fare una review quindi come dire un controllo da parte di un professionista che conosca quel argomento molto bene e che ti assicuri che non hai detto delle cavolate altri casi come per esempio nelle trame raccontate male io ho un testo scritto e che che scrivo io ovviamente non avendo autori e che mi chiede almeno una giornata solo per scriverlo elaborarlo sistemarlo altrimenti poi si rischia che l'effetto non sia quello voluto e anche qui mettiamo le trame raccontate male fino adesso ho affrontato tutte opere che conoscevo bene ma ci sarà un giorno in cui le avrò esaurite e dovrò trattare delle opere che magari non conosco in maniera così approfondita ovviamente questo vorrà dire studiarsi quell'opera e quel libretto anche per settimane prima di conoscerlo abbastanza bene da poterlo raccontare male quindi quando avete fatto tutte queste operazioni e avete il video finale lo dovete caricare sulla piattaforma youtube questa cosa ha un tempo variabile in base a quanto è grosso il file che state caricando diciamo che può volerci mezz'ora un'ora in certi casi due ore due ore in cui non è indispensabile star lì a controllare perché ovviamente la fase di caricamento di upload lo fa lo fa youtube in automatico però in quelle due ore dovrete fare l'ottimizzazione del video cioè dovrete scrivere tutta una serie di parametri necessari affinché l'algoritmo vi trovi all'interno di youtube quindi dovete inserire la descrizione il tag il titolo gli hashtag le schermate finali le altre schermate inserire una playlist se ritenete aggiungere musica o effetti con la post produzione di youtube e valutare qualora il vostro canale abbia i requisiti ovviamente la modalità della monetizzazione cioè quale tipo di annunci verranno pubblicati prima durante o dopo il video e in base ai quali si verrà retribuiti da youtube vi dico che mediamente ogni mille visualizzazioni c'è un valore preciso che può variare da un euro a due euro raramente tre euro su cui poi bisognerà pagare le tasse evidentemente quindi diciamo che un video prima di rendere tanto deve fare tante visualizzazioni poi ci vuole il software per realizzare le copertine io uso canva e mid journey fate conto altri 20 euro al mese dopodiché quando avete fatto tutto questo tutto questo lavoro arrivate nella fase di quella che io chiamo la roulette russa c'è di verificare se nel vostro video ci sono dei contenuti protetti da copyright allora in un video come questo in cui sono solo io che parlo non ci sarà ovviamente nessun tipo di problema youtube come dire metterà pollice verde alla pubblicazione del video ma nel caso in cui io utilizzi delle musiche o dei video la cosa comporta un utilizzo di copyright altrui per cui questa cosa si manifesta in due situazioni una light e una pesante quella light è che youtube ti dice ok hai usato questo video dove si vede questo direttore orchestra tipicamente nella reaction che faccio no? ovviamente nella reaction utilizzando del materiale che non appartiene a chi fa la reaction youtube dice tu non puoi monetizzare questo video quindi non puoi guadagnare di soldi a questo video perché per fare il tuo video usi un video altrui e la cosa ha un senso ci mancherebbe però youtube ti demonetizza quel video per cui tu su quel video anche se il video farà un miliardo di visualizzazioni non guadagnerai neanche un centesimo e questa è la versione leggera dell'infrangimento del copyright diciamo così e che praticamente riguarda tutti i video dove c'è musica o tutte le reaction dove ci sono video altrui molto più grave è un altro scenario quando youtube ti avvisa per un infrangimento del copyright per cui ti dice hai usato questa musica o questo video non potevi utilizzarlo attenzione ti sto avvisando perché per adesso te la cavi con una piccola reprimenda ma guarda che la prossima volta ti bloccherò il tuo canale e metti per una settimana e la terza volta potrai anche chiudere definitivamente il tuo canale ecco perché molte volte mi chiedete ah perché non fai una reaction perché non ci fai vedere questo video o quell'altro e non tutto si può far vedere e il problema è che non tutto si può sapere se è utilizzabile o no finalmente in cui non viene caricato sulla piattaforma youtube finalmente in cui non si sa se youtube o se qualcun altro che abbia ovviamente i diritti per farlo non venga a bussare a tua porta e dire eh no ciccio questo video non potevi usarlo per cui come capite è molto delicato per tirare le somme in conclusione ogni video richiede circa una giornata per la preparazione l'acquisizione del materiale le ricerche, l'ideazione e la scrittura quando vi sia una scrittura la parte tecnica richiede circa 10-12 ore tra quando lo si regista lo si monta, la post produzione, il caricamento, l'ottimizzazione e tutto il resto resta fuori ovviamente tutta la parte di competenze tue personali che vabbè insomma che se hai deciso di aprire un canale come dire doni doni al canale stesso quindi se volete manifestare il vostro apprezzamento per tutto quello che ho detto lasciate un like magari qualche commento ma soprattutto se seguite i contenuti di questo canale e non siete ancora iscritti almeno spero che di aver ingenerato in voi un minimo complesso di colpa però la possiamo risolvere facilmente se vi iscrivete al canale adesso come lo sapete cliccando sull'apposito pulsante ci vediamo la prossima volta